buongiorno sono alessandro marconi alias pips fishing e faccio questo breve video per fare una veloce video analisi potete vedere del 4 gennaio 2019 venerdì sono circa le 10 e un quarto è un'analisi intraday e poi bisogna anche considerare che oggi ci sono il non farm payroll a dicembre e in più le scorte di petrolio insomma la situazione potrebbe anche cambiare pesantemente però dobbiamo fare un pochino un'analisi per vedere un pochino a che punto siamo prima dell'uscita dei dati ho visto dal pannello della forza delle valute che il dollaro americano è molto debole contro tutti gli altri cambi e quindi vedremo se anche il dato di oggi conferma quella debolezza intanto ricordo che la video analisi hanno carattere puramente informativo e non rappresentano né un'offerta né una sollecitazione a effettuare alcuna operazione di acquisto vendita di strumenti finanziari eccetera eccetera dicevo infatti questo è il calendario di oggi dei dati in uscita è uscito già la variazione della disoccupazione in germania un pochino maggiore e poi usciranno dati della sterlina il direttore degli acquisti l'indice dei prezzi al consumo euro poi le famose buste paga e anche per il card del canada abbiamo la variazione nel livello di occupazione di bicicletta che è prevista in calo da da un precedente 94 1 a 6,8 vediamo un pochino se viene rispeccato poi alle 4 un quarto abbiamo il discorso del presidente della fed e per finire alle 5 le scorte di petrolio greggio previste in aumento quindi dovrebbe fare se è rispettato questo dato risalire un po il prezzo del petrolio prima che andiamo alle pompe di benzina e ce lo regalano ma sarà difficile in italia in italia poi con tutte le le tasse che abbiamo allora iniziamo a vedere iniziamo a vedere i grafici sempre con il prospetto ovvero il template trema ovvero sia con le medie mobili che è quello più semplice con time frame abbiamo detto a quattro ore ora arriva è arrivato mettiamolo sullo schermo principale ok facciamo facciamo un video abbastanza veloce perché vi ripeto più che altro per controllare e ripassare il metodo ecco più che fare una vera analisi allora cominciamo da euro euro dollaro euro dollaro vedete anche voi che è totalmente 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 flat ovvero sia nell'ultimo periodo oscilla oscilla fra questi massimi circa 1,14 e 80 circa il minimo dove avevo placciato il 100% di fibonacci ovvero la base via la base con poi le relative e screnzioni perché un certo punto sembrava che volesse quando era più o meno qua volesse sfondare al ribasso allora ho girato fibonacci come dal mio metodo e ho messo il 100% in basso in modo che fossero disegnate anche le successive risprenzioni in basso in basso in basso invece che si tratta in basso in basso per le scuole insieme a quelle specie delle esterne è accadre e ha restato nel credit range vecchio praticamente per cui questo non ha una direzionalità vediamo una conferma dalle medie che sono totalmente orizzontali praticamente orizzontali e l'indicatore relativo all'angolo di tendenza della media 50 e alla vicinanza con il prezzo, questo indicatore indica queste due cose, questi due dati, è flat, praticamente sempre flat. Andiamo su Euro GBP, anche qui c'è una bella fase di compressione, si vede bene, è più o meno come l'Euro dollaro, ha un massimo abbastanza definito, a parte lo spike dell'altro giorno, ricordiamo che queste sono candele a 4 ore, non sono giornaliere, quindi l'altro giorno c'è stato quello spike in alto e in basso sullo yen che ha generato queste ombre lunghe, però in sostanza anche qua contro la stellina c'è una sostanziale indecisione, confermata anche dall'indicatore che non ha una direzionalità. Euro yen, si diceva c'è stata la sparata a ribasso ieri notte e poi c'è stato, quindi attualmente la direzionalità è short, chiaramente è short con tutte le medie sopra, non si sbaglia, è uscito da questo box, questo lungo box orizzontale, ora dopo questa sparata vediamo se dopo un naturale ritracciamento riprende come sembra la strada del ribasso, potrebbe arrivare a incrociare la media magari 21 e poi iniziare a ricornare in basso, io per ora sull'euro yen cercherei operazioni a ribasso, però non adesso, bisogna che mi dia un segnale di ripartenza a ribasso. Gli indicatori chiaramente con questo scrollone sono andati in conferma di trend ribassista come è ovvio, perché la linea della EMA 50 che guida, che fa riferimento a questo indicatore chiaramente è lontana e quindi mi indica un ribasso confermato. Andiamo su Eurocard, Eurocard è un po' più interessante, vediamo che è una fase long, chiaramente long abbastanza pulita, ora qua bisogna, considerato che siamo sul 4 ore, non fidarci molto della rottura anche della EMA 100 che è questa, quella più esterna, più lontana dal prezzo, perché vedete qua che è già stata rotta ma è stata recuperata, quindi bisognerebbe su questo cross fare un esame sul giornaliero che ora non è l'argomento di conversazione di questo breve video, però qui c'è anche un bel supporto rappresentato con questa linea che l'ho tracciato, perché se l'ho tracciata è abbastanza visibile, ne è passato, siamo qua, vedete che c'è questo supporto che potrebbe anche rifar partire il prezzo a rialzo, quindi io qui se dovessi cercare un'operazione attualmente cercherei di ripartire a rialzo, salvo che poi sul giornaliero non si violino certi livelli e certe medie, però non è questo il video che analizza anche il giornaliero. Andiamo su Eurocard, Euroaudi scusate, Euroaudi, qui situazione, la trend rialzista prima di tutto, abbiamo raggiunto la M50, come la chiamo io la media dei ricracciamenti, dove tante volte si interrompe il ricracciamento e riprende il trend principale. Qui ha dato un segnale di debolezza, di perdita di forza rialzista, anche l'indicatore, quindi bisogna anche qua attendere un pochino gli sviluppi del grafico, perché potrebbe riprendere magari dopo una fase laterale il trend long precedente, oppure potrebbe proprio mettersi in laterale intorno al 100% di fibo, perché magari non ha più la forza di continuare a salire, anche se in realtà non è salito di tanto da qua a qua, non è che ci siano moltissimi, moltissimi pips, però siccome questa è un'area molto sensibile, vedete che è stata raggiunta anche qui intorno a settembre 2017, poi fino a ottobre e poi non è più stata superata, per cui potrebbe non avere la forza di proseguire. Proviamo a fare un po' di attenzione e aspettare. Passiamo al cable, alla sterlina contro il dollaro americano. Abbiamo un rischio che il dollaro americano è molto debole, molto debole su tutti, contro tutte le altre valute attualmente, dal time frame a M15 a giornaliero, in base allo schema di forza relativa delle valute che utilizziamo noi. Qui vediamo che c'è, a livello di analisi tecnica è molto semplice la situazione, c'è questa linea platteggiata che avevo disegnato qualche giorno fa, che è la resistenza di questa fascia qui. In realtà poi è stata, ammettiamo, è stata anche raddoppiata qua, però qui siamo molto vicini a questa resistenza e sinceramente purtroppo, vedete anche dalle medie come sono orizzontali praticamente, non abbiamo spunti per operare, per avere una direzionalità dichiarata, diciamo così. Purtroppo in questo periodo, diciamo quasi tutto dicembre, la maggior parte dei grafici è stata una sofferenza per chi vuole far credito, perché non c'è stata una direzionalità chiara su molti di essi. Anche qua vediamo se i dati sul dollaro oggi fanno sì che si smuova qualcosa. Oltretutto GBPUSB è anche soggetta al Brexit, alle decisioni della Brexit, ricordo che a fine marzo, quindi non siamo ormai tanto lontani, c'è la divisione ufficiale, per cui può darsi anche che da ora a marzo continui una fase di incertezza fino a che la divisione non viene raggiunta e al che magari gli investitori vorranno vedere come si comporta la sterlina, cosa succede. Quindi anche questa attualmente è in fase di range, con il punto di attenzione di questa resistenza a 1,27 e 46, diciamo 1,27 e quest'altro livellino 1,28 e 12 circa. Questi potrebbero, ricordo che questi potrebbero anche venire tranquillamente toccati oggi dalle oscillazioni in base all'uscita dei dati, quindi attenzione a eventuali entrate al rigosso di questi valori perché potrebbero respingere sia questo in alto, sia questo in basso, potrebbero fermare eventuali spike dovuti al dato. Andiamo a sterlina Yen, anche qui lo Yen ieri si è rafforzato di improvviso, non si sa se è stato un faxing come lo chiamano, oppure se sono operazioni di inizio anno di riposizionamento di capitali e il fatto sta anche qua siamo in un chiaro trend ribassista, dobbiamo cercare entrate attualmente a ribasso. Andiamo a sterlina contro franco-svizzero, fase molto interlocutoria anche qua, abbiamo questo 86 che rappresenta 1, 26 e 20 circa come aria di resistenza e 100% di fibo che è praticamente la base di supporto di questo ultimo ready range, si potrebbe spostare un pochino più in basso a quest'area qua, però cambia poco, le medie come vedete sono orizzontali, anche se la 100% è ancora sopra il prezzo, però vediamo che la forza di scendere ancora in questo momento non c'è, oltretutto quest'area del 100% rappresenta questo supporto in data settembre, inizio settembre 2018, quindi è un'area abbastanza importante non facile da superare, infatti vedete che il prezzo non è riuscito a confermare la discesa, la rottura e è tornato leggermente sopra, vediamo anche qua che cosa succede, andiamo al dollaro contro lo yen, stesso discorso dopo lo scossone dello yen di ieri notte, i dati di oggi ci diranno se prosegue la discesa oppure se il dollaro riesce a recuperare un po', vediamo qua sul 4 ore che c'è proprio una discesa netta e dobbiamo aspettare anche se l'impostazione è chiaramente ribassista, ma bisogna aspettare la conferma dei dati. US card vale un po' quell'obietto per lo yen, il card si è rafforzato e tirando giù il dollaro americano, a livello grafico siamo sotto anche la 100, quindi diciamo che qui abbiamo la fase rialzista ufficialmente terminata, almeno a secondo di questo grafico. È vero che all'inizio di dicembre abbiamo avuto una fase dove siamo andati sotto la 100, ma l'abbiamo recuperato velocemente, però abbiamo fatto una discesa più piccola in termini di pip, quello che voglio dire è questo. qua siamo scesi praticamente di 185 pip circa, qui siamo discesi ancora di più, siamo discesi attualmente da 2,230 circa, per cui sembra che ci sia più reale la volontà di interrompere gli acquisti di dollari rispetto al dollaro canadese. Oggi vediamo anche oltre ai dati del Canada e naturalmente dell'USA, come abbiamo già detto, anche i dati delle scorte di petrolio se fanno risalire il prezzo del greggio che influisce anche con il campo. Andiamo a USBCHF, qui c'è da sempre tenere come riferimento il prezzo di parità 1,00 che io ho segnato già da un bel po' di tempo. Siamo in fase discendente, si scende poco, si scende poco nel senso che vedete che gli swing come sono sono bruschi, non sono belli da attragare, però attualmente bisogna vederla in short su questo cambio, perché poi la media 100 anche sul 4 ore è in alto, siamo anche sotto al 76,4 di fibo, per cui se i dati dei non farm per all confermano la debolezza del dollar americano, anche qua potremmo continuare a cercare degli short. AUGUSB, anche qua siamo short, anche qua dobbiamo aspettare il dato che eventualmente conferma la ripresa e lo short. Attualmente siamo sulla media 50, che è la media che tante volte ferma il ritracciamento di un grafico, e quindi anche qua siamo in fase di debolezza, quindi l'indicatore non mi da un segnale né long né short, però dobbiamo cercare una ripresa del trend precedente short, salvo prova contraria. Passiamo al DAX, il DAX in quattro ore è in fase discendente, Scamani ha aperto con un gap positivo, che ha fatto attualmente recuperare il gap negativo che aveva praticamente ieri, queste 1, 2, 3, 4 sono le candele di ieri, erano aperte con gap negativo, la candela di oggi ha aperto con gap positivo, e ora ha chiuso praticamente il gap che c'era praticamente del giorno prima, vedete? Qui a regola il DAX è correlato inversamente con l'euro dollaro, quindi se scende il DAX dovrebbe salire l'euro dollaro, anche se ultimamente si è un pochino persa questa correlazione, potremmo anche riprenderla, e in caso di salita del DAX, che ora è intorno a 10.595, praticamente 10.600. Questa qua è una trend line ascendente, quindi in questo momento diciamo che il DAX sul quattro ore è in un complesso in un triangolo, perché questo non è molto valido uno spike, però a questo livello è confermato da qua, facciamo così, quindi se rompe, ora è in compressione rialzista, chiamiamolo così, è una compressione rialzista, se rompe 10.640 circa, allora potrebbe fare una fase di trend long abbastanza duratura, sale verso la media 50, in quel caso e ricomincia una fase duratura a rialzo, perché è tanto che si scende, vedete anche a voi che è tanto che scendiamo. Ok, andiamo al decroglio, che è sceso di molto, si è fatto in termini di punti da qua, si è fatto la bellezza di 353 punti, mica poco, vediamo se è finita la fase di discesa. Qui possiamo mettere al volo questa base di supporto e vediamo se qui ha già superato anche questo massimo, sembra che voglia risalire, sembra veramente che questa volta voglia risalire e tornare almeno in aria. Subito, inserisci linee, trend line, facciamo questa aria qua. Ah vabbè, c'è praticamente Fibonacci, 50 e 60 circa, al valore 50 e 60 potrebbe essere il prossimo obiettivo del decroglio. Quindi visione al rialzo, attualmente visione al rialzo. Finiamo con l'oro, l'oro ha fatto una bella fase di rialzo, già. Ora, ecco, qui avevo messo, vorrei dirvi questo, una linea orizzontale che mi poteva rappresentare un'interruzione della salita. In realtà un po' l'ha superata già questa linea, è la quota 1.083 e si sposta un po', si sposta un po' qua, a 1.290. Però io qui ci vedrei, ci vedrei un ricracciamento, non dico un'inversione, ma almeno che faccia respirare un po' il prezzo. Per cui una discesa verso il 61.8, verso il 1.275 circa, potrei anche aspettarmela, prima magari di riprendere la fase di salita. Questo è finito, ora come scritto nel titolo vediamo, un attimo solo, un attimo solo. Le criptovalute, ovvero sia, facciamo solamente i bitcoin, apro un attimo il grafico, aspettate, ci resto, faccio i bitcoin e poi chiudo la registrazione. Sempre con il grafico a quattro ore. Allora, facciamo così, facciamo sia i bitcoin che l'ethereum. Allora, i bitcoin, anche se ha avuto una piccola fase di ripressa, però poi si è lateralizzato totalmente. Ora è compresso fra 4.052 e 3.647, 3.650, diciamo così. Le mebbie sono piatte, quindi siamo in una fase totalmente di stanc. Mentre l'ethereum ha una salita un po' più precisa, un po' più regolare. Si sono invertite intanto le mebie, ha battuto nella media 100, è ripartita. Poi ha confermato la volontà di risalire fermando il ricracciamento alla media 50 e attualmente siamo su 162 come resistenza, che è questo massimo relativo più recente. Io sull'ethereum vedo una volontà di risalita un po' più forte che il bitcoin. Poi vediamo quando arriva a 170 come si comporta perché c'è un po' un'interruzione, un fermo, che potremmo anche duplicare sui 190, però l'ethereum lo vedo in fase di salita più convinto rispetto al bitcoin, che dopo questa piccola salita è tornato giù e ha sgraiato le mebie come vedete da voi e si è messo qua a saltellare fra questi due livelli in questo box. Io per ora ho terminato, speriamo che non vi abbia annoiato e ci sentiamo con la prossima videoanalisi. Ciao a tutti!